Oroscopo 2017 Leone Per i leoni il 2017 sarà un anno ricco di gioia e affetto. Gli amici vi saranno vicino anche nelle questioni di stampo professionale. Non strafate sul lavoro. I risultati giungeranno e anche delle entrate extra. Un po' di influenza destabilizzerà la vostra salute. Il 2017 inizierà per tutti i leoni con grandi soddisfazioni, soprattutto in ambito relazionale. Gli amici vi saranno vicini e vi dimostreranno il loro supporto, anche nelle questioni lavorative. Godrete di ottima salute, a parte un po' di influenza, che vi verrà a far visita durante i primi mesi del 2017. L'attività fisica, sia in palestra che all'aperto, vi daranno le forze necessarie per combattere i malanni di stagione. Optate anche per un'alimentazione varia, fatta di frutta e verdura. Amore Gli affetti renderanno il vostro 2017 un anno davvero grandioso. Gli amici vi saranno sempre accanto e vi aiuteranno anche nei momenti più difficili. Il vostro partner vi dimostrerà amore e dedizione, appoggiandovi nelle scelte che farete. Un periodo d'oro per l'eros e per i rapporti amorosi. Dopo un periodo decisamente buio e fatto di contrasti, anche decisamente accesi. Anche se vivrete delle difficoltà, non vi abbattete. La voglia di riuscire a portare avanti i rapporti amicali e sentimentali non si frapporrà in alcun modo tra voi e le persone care. Se siete single, potrete fare degli incontri particolarmente interessanti tra marzo e aprile 2017. Lavoro Anche se professionalmente siete dei fiumi in piena, sappiate moderare i vostri ruenti modi passionali, in modo da non creare scompiglio sul piano lavorativo. Non siate precipitosi nelle scelte da compiere e impegnatevi con tutte le forze che avete per affermare le vostre qualità, senza cercare di sopraffare gli altri. Altrimenti la vostra fervida attività lavorativa potrebbe trasformarsi in un boomerang che potrebbe alla fine farvi solo male. Tenete presente che i vostri colleghi non sono contro di voi e che addirittura potrebbero darvi una mano a portare avanti i vostri obiettivi. Denaro ed entrata extra non mancheranno. Per questo potrete concedervi qualche vacanza o weekend romantico con la vostra dolce metà. Salute Siete dei leoni e la salute di ferro di certo non vi mancherà per tutta la durata del 2017. A parte nei primi mesi del 2017, dove il freddo e le basse temperature metteranno a dura prova la vostra resistenza fisica. Andrete incontro a influenza, raffreddore e tosse, poiché le vostre difese immunitarie si abbasseranno un po' e non saranno sufficienti a tenere testa ai malanni di stagione. Pertanto, per combattere al meglio gli agenti esterni e ritornare in perfetta forma, assumete tanta vitamina C, che è il perfetto alleato soprattutto per contrastare gli odiosissimi raffreddori invernali. Inoltre, dedicate del tempo all'attività fisica, sia in palestra, sia al parco o magari facendo un po' di esercizi in casa, soprattutto quando il tempo non permette di uscire di casa. In questo modo, il vostro sistema immunitario ne beneficerà notevolmente. Anche l'alimentazione dovrà essere ricca di frutta e verdura, che vi aiuteranno a rimettervi in sesto. Grazie per la visione!